Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo test mode oggi siamo qui per una sola mode però molto utile che suppongo sarà messa anche nella serie americana se non causa problemi allora come potete vedere siamo qui appunto per questa mode posizionabile dovrebbe chiamarsi wool palette o una cosa così praticamente vi sposto automaticamente i bancali di lana quando sono pieni e ve li ammucchia diciamo qui adesso questo qui per esempio è poco nel senso che ci staranno occhio croce 2, 4, 6, 7, 8, 9 o 10 bancali in tutto però diciamo all'interno di questo pack se voi lo scompattate c'è una guida su come diciamo anche aumentare diciamo gli spazi però mi sembra dovete usare no dovete obbligatoriamente usare giants editor quindi andare a modificare la moda andare a scrivere altri valori eccetera eccetera però io diciamo la presento così e anche nella serie americana la metto così così diciamo non sono sicuro che faccia errori tanto mi basta praticamente voi quando andate a posizionare ce l'avete ecco ce l'avete qui adesso non so ne avete due perché uno vedete la parte destra e una parte sinistra la comprate e come vedete c'è questa specie di linea rossa che adesso vi faccio vedere praticamente quando la posizionate deve apparire diciamo un indicatore verde eccolo qua vedete la linea così adesso purtroppo ci va sopra e non si può mettere ma altrimenti diciamo vi compare vi compare una x sopra qui vi compare una x diciamo verde quando vi compare la x verde cliccate e lo posizionate quindi siete sicuri che funziona adesso vi faccio vedere un po' aumento un po' il tempo ho comprato qualche pecorella giusto proprio il minimo indispensabile eccolo qua sono mille e ho riempito un po' le mangiatoie ho trebiato insomma raccolto erbo un po' attorno ai campi e adesso vi faccio vedere così un attimo come funziona praticamente vedete i bancaletti si spostano e poi man mano cominciano ad ammucchiarsi qui poi voi arrivate col caricatore frontale e tutti su un colpo li prendete e li portate via senza star lì ogni volta vai spostalo ammucchialo eccetera eccetera eccolo qui presso in funzione vedete si sposta così tac e poi si ferma e si posiziona in questo caso diciamo siccome sono tre completi li porta tutti avanti fino all'ultimo ecco vedete e man mano così li porta avanti quindi qui ce ne sta occhio e croce sono due elementi quindi ce ne sono tre, sei nove e una dieci però appunto voi arrivate qui li prendete, li caricate e ve li portate via senza star lì ogni volta cazzo, se pien, demo, quan, demo, da va a spostarlo in tante insomma modo molto molto utile adesso vi faccio vedere un altro funzionamento da questa parte qui non ha, non fa errori a me non crasha, non crasha niente e spero di poterlo usare in multiplayer senza nessun problema anche perché sto rifacendo qualche, il pack della serie ne faccio uno unico perché ho visto che tanti hanno avuto problemi e aggiungo, diciamo sostituisco una moda e ne aggiungo un'altra ecco qui un altro pieno, si sposta e dovrebbe fermarsi qui così eccolo qua e subito un altro e poi via via così così, diciamo, non perdete tempo perché se voi lasciate il bancale posizionato qui sopra automaticamente vi si ferma la produzione delle mucche e perdete tempo bene, continuate a iscrivervi mettete mi piace e commentate link in descrizione originale da Modoster se non sapete come scaricarlo ho fatto il video sezione tutorial lo andate a vedere ciao a tutti e alla prossima ciao ciao